E' tutto fatto? Finalmente, siamo felici, abbiamo trovato l'intesa, le ultime situazioni sono state limate, il notaio sta preparando la scrittura definitiva per opporre la firma. Queste sono i diminuti. Ma manca una procura ancora? Sì, mancherebbe la procura che autorizzava me alla firma perché il socio era fuori Messina, comunque non ci sono problemi, ormai l'affare è concluso. Da questa sera il gruppo Lomonaco è proprietario del Messina Calci. Una soddisfazione anche per voi che avete mantenuto lì la vostra società? Diciamo di sì, tanti sacrifici, avevamo promesso di traghettare nel migliore dei modi questa società e ci siamo riusciti. Adesso dovranno pensarci loro a portarci il più in alto possibile.